Musica Ok, e il primo l'abbiamo fatto Ora, di questo Verso un terzo futuro Proviamo a farlo Sì, perché comunque No, forse no, forse ve li divido a sto punto Faccio un episodio con uno o un episodio con l'altro Però provo Se dovesse venire lungo li divido Goku e gli altri non sono riusciti ad avere la meglio su Black Goku e Zamasu E hanno subito gravi ferite Grazie al diversivo di Trunks Goku e Vegeta riescono a tornare nel loro tempo Esiste un modo per sconfiggere quei due mostri? Goku e gli altri sono alle strette Ma Piccolo propone di chiedere aiuto al maestro Muten Goku impara la Mafuba Dopo aver ricevuto una giara dal maestro Muten Torna subito da Trunks assieme a Vegeta Una volta arrivato Si imbatte subito in Black Goku e Zamasu Che distruggono la macchina del tempo davanti ai suoi occhi Che distruggono la macchina del tempo E' Che distruggono la macchina del tempo Di loro non ii E' Questo mondo E' E' Ascolti un po' di una piccola. Il nostro corso di un uomo ha dato il vostro rinforzato... Alla, Cacarotto, come la cibo? Non è certo, in una macchina di un'articina! E questo... C'è un bambino! C'è tutto bene! C'è l'altro che mi piace! Hehehehe... C'è l'altro! Il contatto è l'ora! Non c'è l'ora! Non c'è l'ora! Uuua! Aけるか! Uuua! L'amico nasi! Uuua! 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 Aけるか! Vedo, Zen才! Icari o kawa ni kaita koto de Ore ha ma ta a nata na chikara o te ni iれたぞ! Kami kai no tsuyo sa ga ika hodono mono na no ka? Sama ni kizami to me! Hahahaha! Kyo teki to no ta takai ga, Watashi tach o saranaru takami e to hakonde kredu. Ae zo kami no waza! Vantutsu o sabaku chikara no shoumei! Uuua mi kona si da! Uuua! 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 Iriya! E' un po' di chi? E' un po' di chi è venuto! Si, è il po' di chi? Tu non lo so, però non si portatevi. Ecco. Questa è una nuova. Cosa cosa? E' un po' di chi? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.